Giancarlo, sei il consulente marketing e comunicazione di Audiogamma, un storico distributore italiano di parecchi brand importanti per l'alta fedeltà e già mi parlavi prima dell'estate di questo progetto che adesso è in astre di partenza. È un appuntamento che parte da un'esigenza, cioè quando la Warner ha presentato la rimasterizzazione di The Dark Side of the Moon, Atmos bellissima, fantasmagorica, l'hanno fatto in un cinema a Milano che non ha per niente fatto giustizia rispetto a tutto il lavoro che hanno fatto dal punto di vista della rimasterizzazione e quindi a me già all'epoca venne l'idea di farlo ascoltare meglio in qualche negozio di Hi-Fi, perché forse sarebbe il caso, no? Era il caso. Diciamo che è stato un po' un flop quella presentazione, nel senso che in un cinema, con l'audio di un cinema, e tu lo sai bene che voglio dire, per quanto bellissimo non è adatto. Vabbè, o vai a un cinema particolare, vai a Arcadia, a Melso, in Sala Energia, oppure vai nelle Sala Energia nuove a Stezzano. Ci sono dei cinema con dell'audio, diciamo, di qualità, però... Ma sì, poi troppa roba in più che non serve per la scuola, ecco. E poi avrebbe avuto senso se avessero fatto sentire la parte Atmos, quella multicanale. Esatto. E quindi mi è venuto in mente di fare questo tour nel quale portare la rimasterizzazione di The Dark Side of the Moon, un po' in giro per i negozi d'Italia. Quindi ho cominciato a lavorarci, per cui la prima data sarà Auditorium Parco della Musica il 9 settembre, quasi completamente sold out, ci rimane solamente... Come sold out? Vabbè, che ne parliamo a fare? Cioè, voglio dire... Vabbè, se provano a prenotare qualcosa magari gliela trovo, ma la cosa bella è che c'è la volontà da parte delle persone di eventi del genere. Credo che siano gli eventi giusti per far andare persone nuove all'interno di negozi. i fai perché poi questo tour che parte da Roma tocca poi molte città d'Italia, da Napoli fino a Torino, dieci tappe diverse che trovate su www.audiogammatur.it dove vi potrete prenotare per fare un ascolto con la partecipazione di Marco Fullone, music designer, famoso DJ di Radio Monte Carlo, che vi porterà all'interno del disco e all'interno dell'ascolto, quindi è proprio un'esperienza. Mentre però al Parco della Musica l'ascolto sarà Atmos 7.4.3 con le GBL Everest, è un impianto che costa credo mezzo milione di euro, una cosa del genere. Aspetta, 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 no, diciamolo bene, quindi hai davanti le due GBL Everest che sono l'impianto residente, tra virgolette, che abbiamo usato anche per il nostro, per l'evento che abbiamo fatto insieme nel scorso anno, dico bene? Sì, poi c'è un centrale che non è una Everest, perché una Everest singola non c'era, credo si chiami SCL7, una bestia da 140 kg, è un centrale della GBL Synthesis, poi ci sono 4 e 4.700 della serie Summit e poi sopra ci sono i quattro canali Atmos sospesi con un'americana, perché poi si fa nello studio 2 che sono gli studi dove si fa anche la festa del cinema. Quindi amplificazione cosa? Ah, Mark Levinson, il Predecoder? Il Predecoder è the GBL Synthesis, è quello, ok, quindi è anche una gran bella macchina e quindi a Roma sarà così. Nelle altre location invece era più complicato fare una cosa del genere, per cui ci saranno o Everest o 4.700 in un ascolto 2.0. Senti, vista la bellezza dello studio 2 che conosciamo e diciamo anche il pregio dell'impianto che mettete, perché non fate dei bis, visto che è già quasi sold out la data del 9 settembre? Allora, non si può fare perché c'è la festa del cinema a seguire, quindi è molto difficile avere uno slot al parco della musica, c'è la festa del cinema dopo e poi dopo cominciano i tour nei negozi in Italia, quindi eventualmente potremmo fare qualche altra cosa, ma non prima di novembre e dicembre, se non gennaio, probabilmente faremo qualche altra cosa. Anche perché dal punto di vista dell'impiego delle energie, delle persone, non è uno scherzo, per esempio ho dovuto affittare due americane per mettere i canali Atmos sopra, quindi non è uno scherzo fare una cosa del genere, ma il focus è portare delle persone nuove all'interno dei negozi, perché noi già con Audiogamma ci eravamo accorti che facendo quel tour nei negozi di Torino, portati in giro attraverso una navetta che girava per i negozi e che lasciava e prendeva gli appassionati, avevamo avuto un grandissimo riscontro. Quindi forse il concetto di portare appassionati nuovi con il traino di grossi gruppi, in questo caso i Pink Floyd sono un gruppo stratosferico all'interno dei negozi di Fai e probabilmente sollecita o risollecita la voglia di ascoltare bene la musica, che è un concetto secondo noi, secondo Audiogamma e secondo me molto importante, che travalica un po' quella che è la fiera di settore che ci deve essere, ma che attira sempre le stesse persone. Emilio, anche tu, sono sicuro che riconosci sempre gli stessi appassionati che vanno alle fiere e che hanno sempre le stesse faccia. Sì, è vero, sicuramente qualche fiera sta provando a fare qualcosa di più, come per esempio Sintonia e i Fai che ci sarà la settimana, l'uggen dopo, il primo evento al Parco della Musica, ovvero 15, 16 e 17 settembre, allargando anche un po' i temi, quindi all'audio video, la video proiezione dei televisori, al gaming, alle cuffie eccetera, vedremo come andrà a finire. Va bene, allora Giancarlo ci vediamo, male che va, ci vediamo il 9 settembre al Parco della Musica e con i pochi appassionati che riusciranno a trovare un posto. Ricordiamo che l'ingresso è assolutamente gratuito, no? Assolutamente. E come si fa a prenotare gli ultimi posti disponibili? Allora, si prenota mandando una mail a me ballettachioccio.audiocamma.it, indicando gli orari, gli slot sono 4 alle 10, alle 11 e mezza, alle 2 e alle 4 meno un quarto, perché poi io alle 6 devo smontare tutto perché poi la domenica quello studio serve per un'altra cosa, quindi per forza così. Ecco, volevo lanciare questo messaggio perché molti ho detto, ah ma perché non fai un altro slot, perché non fai la domenica? Magari, visto che fai tutta quella giostra, ma non si può fare. Lo slot delle 15 e 45 è già sold out, gli altri tre c'è qualche posto per cui se volete affrettatevi. Ok, grazie Giancarlo, ottima inizia a dirla e ci vediamo presto. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.